Amici da software, questa volta né libero né open source, ben ritrovati in questo nuovo video. Torniamo in questo video a parlare di Microsoft Paint perché c'è stato un nuovo aggiornamento del programma di editing immagini basilari preinstallato su Windows. Su Windows 11 abbiamo appena ricevuto l'aggiornamento alla versione 11.2309.28.0 che va a introdurre una funzionalità che personalmente stavo aspettando da diverso tempo, ovvero co-creator. Che cos'è co-creator? Co-creator è una funzionalità attualmente in anteprima che consente di creare immagini partendo da un testo. Come potete leggere qui, è alimentato da Dali come intelligenza artificiale, quindi un sistema di intelligenza artificiale che crea immagini e arte realistiche a partire da una descrizione testuale in grado di creare anche cose impreviste. Vediamo di fare un po' un rapido discursus. Come potete vedere c'è un sistema di crediti, quindi non abbiamo immagini infinite da poter creare. Adesso bisogna vedere se si azzerano ogni mese oppure no. Vabbè, lo scopriremo presto perché oggi è il 31 di ottobre, quindi domani scoprirò se ci sarà un nuovo caricamento di crediti. Allora, innanzitutto qui possiamo vedere che c'è una voce che dice scegli uno stile. E possiamo scegliere tra diversi stili di disegno, ad esempio nessuna selezione, quindi immagino che faccia tutto in automatico, carbone, schizzo input penna, acquerello, pittura olio, arte digitale, fotorealistico, anime, pixel art. Ma facciamo qualche test, mettiamo fotorealistico e gli proviamo a dire di disegnare un pinguino stilizzato con in testa un cartone, anzi no stilizzato noi lo diciamo perché abbiamo detto fotorealistico. Ancora lo mettiamo fuori, facciamo fare un po' di confusione, disegniamo un pinguino con in testa un cartone e la scritta Marcos Unbox. Creiamo questa immagine, vediamo che cosa ci tira fuori. Ci sta pensando, vediamo un po', adesso immagino che sia lento proprio perché ci sono tante persone che stanno cercando di testare questa funzionalità, perché l'aggiornamento mi è appena arrivato, ho fatto giusto qualche prova. E che cosa ha generato? Oddio, questo scritto MRO, sembra un film horror, in realtà che è scritto come l'ha messa. Marco questo l'ha preso e tutto il resto era sbagliato, però c'è il cartone, è fotorealistico diciamo, e questo è anche inquietante. Se clicchiamo sui tre puntini altro c'è la possibilità di salvare test, facciamolo tre. E' fatta abbia visto qualche altro esperimento che avevo fatto. Facciamo qualche cosa in stile anime, dai, gli chiediamo la stessa cosa però in stile anime. e chiediamogli di creare qualcosa. Come si trova? Anche le immagini possiamo cancellare semplicemente così. Sempre se riesco a selezionare. Vediamo un po' che cosa fa. Ci sta pensando. Come vedete le scritte non le prende. Ed è anche strano perché l'intelligenza Copilot che è integrata su Windows 11, come vi ho fatto vedere già nello scorso video, Copilot riesce a prendere le scritte. Al 99% che cosa ha creato? Mamma mia pieterina che cosa ha creato. E questa è una cosa stile anime, cioè questo coso qua che è inquietantissimo questo volto. Mamma mia. Dicevo, l'intelligenza di Copilot riesce a prenderci le scritte. Qui sembra che le sta cannando una presa l'altra. Ecco. Maro. Maro. Ehi Maro, che fine hanno fatti Maro? Qualcuno sa che fine hanno fatto. Facciamogli fare qualche cosa... Allora, facciamo nessuna selezione. Vediamo che cosa succede se non facciamo nessuna selezione. Dicevo, sì veramente che sta sbagliando tutte quante le... Anche dei test che ho fatto prima, in effetti, le ha cannate tutte quante le scritte. Strano questo comportamento. Ma vediamo che cosa fa se gli diciamo nessuna selezione. Gli lasciamo carta bianca. Decide lui che cosa creare. Ci sta pensando, ci sta pensando. Eccoli qua. Se gli diamo carta bianca... Macro. Ok. Questo è orribile, questo è orribile, questo è orribile. Vabbè, facciamo un ultimo tentativo, diciamo, di fare un... Pinguino vestito da delfino Che fa dolcetto o scherzetto Per Halloween Vediamo che cosa sputa fuori Se crea qualcosa di più interessante Vediamo un po' Sono tutti veramente, sono tutti inquietanti questi... Questi tentativi che fa Vediamo che cosa riesce a creare adesso Ci mette davvero tanto tempo Ok, questi sono i pinguini in stile Halloween Questo è carino Dai, questo è carino È davvero decente Questo è anche sembrino perché sembra un peluche Sembrano uno di quei peluche proprio di... A forma di pinguino, vedete Non ho spesso zoomato troppo Vedete il dettaglio Della texture, diciamo, della pelle Anche questo Ecco, questo ci ha preso un po' di più Perché questo, vedete Questo l'ha capito Perché A parte i piedi che sono C'è successo qualche cosa di strano ai piedi E questo pinguino Però Qui è riuscito a capire di metterci Il costume Da delfino Perché ci sono i colori tipici di un delfino Quindi Dai, questo sembra che l'ha preso Il cappello ci ha messo anche Beh, è interessante questa funzionalità Voi che cosa ne pensate? Io sono molto affascinato da queste funzionalità Di Integrazione di intelligenza artificiale In software E anche in Sistemi operativi Così come è stato detto anche da altri Su altri lidi Il futuro dei sistemi operativi Il futuro dell'applicazione Molto probabilmente si concentrerà proprio su questo Sull'integrazione dell'intelligenza artificiale La gente A la gente piace avere Qualcuno che le aiuti Che gli Riduca L'amore di lavoro E quindi Utile Se dovete fare Una presentazione Se volete mettere qualche immaginetta carina Potete generare Potete incollare Quindi facilmente Sotto questo punto di vista Può essere molto comodo Sia a lo studente Che A chi lavora In abito azientale E quant'altro Quindi queste funzionalità sono Per loro secondo me Interessanti Vabbè Fatemi sapere voi che cosa ne pensate Lunga vita a tutti quanti E ci rivediamo in un prossimo video Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti